Buongiorno cari amici, vediamo com'è andata sui giornali dopo che si è depositata un po' di polvere dei commenti del primo giorno, le elezioni amministrative che hanno riguardato 9 milioni e 100 mila persone. Diciamo che sono quattro i titoli che ho scelto per voi. Il primo è quello del Corriere della Sera che punta sulla lite nel Movimento del 5 Stelle e torna al centro-destra. Questi sono i due punti di vista del Corriere della Sera. Repubblica invece la punta diversamente, il Movimento 5 Stelle si spacca, quindi una lite nel Movimento 5 Stelle sembra per il Corriere della Repubblica essere un dato di fatto, ma il Repubblica dice e cita Grillo che sostiene non essere un flop. Mi sembra che sia la verità, che è molto interessante, punta Casaleggio accusa Grillo, sei un casinaro. Quindi la lite in questo caso sarebbe, scusatemi, questo era il giornale, sarebbe tra Casaleggio e Grillo. Il punto fondamentale è che il flop creerebbe problemi all'interno del Movimento 5 Stelle. Libero è molto divertente, come sempre, il titolo di Feltri perché il bullo è caduto, in questo caso il bullo sarebbe Grillo. Bene sostiene Becchis, fratelli d'Italia, che vede una raggiante Meloni che racconta in conferenza stampa tutti e snocciolo a tutti i posti in cui ha superato il 5% che era il famoso sbarramento che ci sarebbe stato nel caso fosse passato il proporzionale alla tedesca. Ma il dato forse più interessante è la sintesi fatta dal Corriere della Sera oggi, perché il Corriere della Sera mette semplicemente le cose, devo dire che è il più chiaro di tutti, dice che il PD ha vinto il primo turno in due posti, a Palermo e a Cuneo. Qua in realtà sbaglia perché, come si vede in tutte le interviste che oggi ha fatto Orlando, Corriere Repubblica, a molti giornali, Orlando non si considera del PD e anzi ha cercato di tenere il PD più lontano possibile dalla sua lista. Quindi è difficile attribuire la vittoria di Palermo al PD. Il centrodestra vince soltanto in un posto al primo turno, è a Frosinone, quindi ci sono 3 di 25 capoluoghi in cui al primo turno viene assegnato il seggio, 2 alla sinistra, 1 alla destra. Ma ci sono 22 ballottaggi per arrivare ai 25, questi sono sempre dati al Corriere della Sera e più chiari di tutti. In questi 22 ballottaggi in 6 casi è avanti il centrosinistra, in 13 casi è avanti il centrodestra, in tre casi le liste civiche, come a Parma ad esempio che la lista avanti è quella di Pizzarotti che è una lista civica. Quindi questa è la sintesi. Il centrodestra, secondo questa sintesi, è avanti in molti più ballottaggi di quanto lo sia la centrosinistra e comunque il Movimento 5 Stelle non è presente in nessuno dei ballottaggi nei 25 comuni più importanti. L'Istituto Cattaneo analizza il voto e dice che il dato del PD non è positivo perché ci sono state molte estensioni che lo hanno penalizzato pesantemente. Cerasa fa un buon lavoro, secondo me, sul suo fondo oggi, sul foglio, perché tira fuori i numeri assoluti. Quindi vediamo che cosa dice Cerasa. Ad esempio a Verona il Movimento 5 Stelle passa da 34 mila voti a 10 mila voti, a Genova da 112 mila a 39 mila. Insomma, con il numero in assoluto si riesce forse a rendere l'idea di quanto il tema dell'astensionismo abbia pesato e come abbia pesato tra l'altro nei confronti del Movimento 5 Stelle, come ricorda qualcuno oggi nel Movimento 5 Stelle, non era quel partito che diceva non vi vergognate di andare a votare perché gli altri fanno schifo ma con noi troverete il voto esatto. Il voto buono non l'hanno trovato a Genova per i casini che gli stessi hanno combinato. Direi che poi i giornali ovviamente parlano a seconda delle loro tendenze dei casi isolati. Forse il più divertente è la Giussi Nicolini, come spesso avviene. Va alla Casa Bianca, Renzi la considera il miglior sindaco di tutti quanti, i giornali, le interviste, non ci sono sì, non ci sono no, le televisioni pure, la donna dell'accoglienza, la sindaca di Lampedusa, quella che prende i Nobel, non so gli Oscar, non so che cosa prende, ma non prende il voto dei suoi cittadini che le preferiscono. Un altro candidato, sempre a sinistra perché era iscritto al PD, anche se il PD stava con Giussi Nicolini, insomma perde a Lampedusa la sindaca o simbolo dell'accoglienza e il nuovo sindaco dice Boni con l'accoglienza perché la si deve fare in altri modi. Quindi i temi fondamentali sono la divisione del Movimento 5 Stelle, la sconfitta del 5 Stelle, ma non è detto e non si è ancora capito chi abbia vinto, se ha vinto il centrodestra o ha vinto il centrosinistra si dovrà aspettare ovviamente il secondo turno del 25, oggi sembra in testa il centrodestra. Però anche sul centrodestra qualche problemino ce l'abbiamo e lo nota benissimo, come si chiama? La stampa, perché la stampa nel suo occhiello di prima pagina dice Lite sulla leadership, Berlusconi e Salvini non si vince con gli slogan. In realtà più che non vincersi con gli slogan, con gli slogan aggiungo io, si vince, ma non si governa. Ma la cosa fondamentale è che il centrodestra non si capisce bene dove deve andare, con chi deve stare, se Meloni, Salvini e Berlusconi devono stare insieme, modello Genova, oppure come avviene nel sud Italia dove la Lega non c'è, perché nel sud Italia centrodestra vince senza la Lega, si deve continuare ad avere una Lega, una Forza Italia ancora convinta, come lo leggo oggi sul giornale, del sistema proporzionale. Belpietro è della teoria Toti, cioè della teoria Genova, modello Genova, oggi sul suo giornale La Verità dice gli italiani bocciano l'inciucio, cioè gli italiani sono contro l'idea che Berlusconi stia con Renzi, l'idea del Nazareno e del modello tedesco, del vecchio sistema elettorale che è stato cancellato, vogliono questo sistema elettorale che fa sì che la destra si unisca e vinca. Questa è la tesi di Belpietro, tesi che Berlusconi non pensa proprio, non gli entra da un orecchio e gli esce dall'altra. Questa roba qui sembra al momento che non gli piaccia, così quando non gli piace è la tesi di Toti che oggi esprime su molti giornali dicendo così si vince. Amato, intervistato dal Corriere della Sera, giudice costituzionale, ma un politico che voi ben conoscete, dice guardate che la consulta non è per il proporzionale, o meglio non è mai stata contro il maggioritario, grazie al Ciele scopriamo che i giudici non sono loro a decidere il nostro sistema elettorale, purtroppo la politica essendosi affidata a loro oggi ha molta poca credibilità nel decidere il sistema elettorale perché non riesce a trovare una soluzione. Quindi adesso c'è un'altra questione che vorrei fare e lo faccio chiamando Enrico Zanetti che è il segretario di scelta civica, vediamo se ci funziona. Eccolo qua, Onorevole Zanetti? Eccoci qua. Allora, senta Onorevole, lei ci deve spiegare che cos'è questa roba qua della signora Orlandi che doveva essere sostituita all'Agenzia delle Entrate e il giorno prima che arriva il nuovo capo si affida un nuovo lavoro, è così? Nella sostanza è così, non è un mistero che io poi personalmente quando ero viceministro già nel 2015 avrei gradito questa sostituzione che avrebbe, a mio avviso, dato un impulso più positivo rispetto a alcune cose che si sono determinate. Ora che arriva è veramente peculiare che il dettore uscente, essendo in carica fino al lunedì scorso nell'ambito della prossima settimana, a tre giorni dalla scadenza, ha convocato il consiglio che ancora precedeva, il consiglio di gestione e si è sostanzialmente nominato vice direttore e mi risulta che abbia fatto anche altre nomine. Ma io ho letto oggi sul Corriere della Sera che oltre a farsi la Orlandi a lei stessa vice direttore anche il suo capo staff ha avuto un altro ruolo all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Pronto? Zanetti è in treno e non si riesce a capire, oggi secondo il Corriere della Sera insomma il capo dell'Agenzia delle Entrate cosa fa? Prima di andarsi via convoca un comitato e si fa vice direttore e nel frattempo oltre a farsi vice direttore fa anche vice direttore del suo capo staff. Ma è una roba pazzesca. Lei è in treno Zanetti quindi probabilmente va via. Mi interessa capire ma oltre ad aver nominato se stessa vice direttore la Orlandi ha nominato anche persone di sua fiducia con ruoli importanti all'Agenzia delle Entrate? Allora la delibera ancora non è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate quindi si incorrono voci pare che sia così ed è un altro punto di fare. La saluto Enrico Zanetti, grazie Zanetti. È una cosa incredibile. Nell'Agenzia delle Entrate ci siano quelli che si considerano i padroni del Cisco. Grazie Zanetti, grazie Enrico Zanetti. Grazie a voi. Allora se così fosse sarebbe una cosa incredibile cioè che ci si nomina, ci si nomina se stessi e poi si nomina i propri capi staff. Nei prossimi giorni vedremo se questo è vero, come sarà vero e cercheremo di vedere questa delibera perché una delibera in genere secondo la trasparenza dovrebbe essere pubblicata. Immaginate se una vostra carta che vi chiede l'Agenzia delle Entrate voi non la forniate nei tempi che loro richiedono. Mentre loro quando fanno le loro nomine passano la settimana e non ne sapete nulla. Vabbè, vi saluto, vi do appuntamento domani come sempre con la zuppa di porro. Ciao!